ultimamente stiamo portando lui questa è la configurazione comunque lui potenzialo al massimo sono solo 5 livelli, quanto costa? adesso 20 no, non se ne parla lui è già al massimo che sono solo 5 livelli in questo qua nel 2 probabilmente proseguono non lo so come funziona nel 2 lui è 15 di forza ha delle meccaniche sue particolari vedi lo sforzo, la volontà però adesso è lungo a spiegartelo perché sennò poi non streamo più nel senso chi mi ha seguito le sa già queste cose perché la forza è anche la vita tanto per dirti brevemente l'armatura ti ripara da danneggiare la forza però dipende allora, noi potremmo forza far lui lui è esso già a livello 2 ma a livello 3 mi sa che ci arriverà al quarto o quinto forse beh, poi promuoviamo lui e io direi la volontà ce n'è abbastanza direi di portiamo al massimo la sua armatura lo sforzo può andare bene così no, la rottura 2 già di su fa 2 non lo saprei potremmo anche maxare i danni che fa le armature altrui dai, facciamo così maxiamo questo la forza la forza oppure mettiamo un punto la forza e poi vedremo il prossimo dai, facciamo così poi Agile promuovi ma lui anche lui costa 15 quindi per ora lo lasciamo così lui lo usiamo più che altro come come spaventa passeri come dico io cioè lui prende le botte ha un'abilità che riduce il danno o lo ha zero addirittura lo sto usando molto per per tenersi addosso alla gente in pratica quindi di solito non fa danni non fa nulla niente andiamocene Rook aspetta per favore Timplora Eivind ha detto che sarebbe stata qui abbiamo bisogno di lei è terrorizzata dall'idea di andarsene come se dovesse rinunciare a Juno per me non viene che famo? aspettiamo ancora un attimo aspettiamo ancora un attimo dice Eivind che aspetterete ancora un po' ma non sei certo di quanto tempo sarei disposto ad aspettare ogni giorno perso diventa sempre più pericoloso dobbiamo fare un rest ok una risa è scoppiata di fronte alle case ladri grida uno dei tuoi mentre un gruppo di sconosciuto fugge dal tuo accampamento Odeleif sta già correndo nella loro direzione hanno preso le nostre provviste senti nelle vicinanze pure abbiamo poco cibo dobbiamo parlare con i paesani invece di inseguirli così scopriamo come mai hanno tutti quello sguardo vai verso una spiaggia dove alcuni uomini ti stanno aspettando volano parole sul fatto che qualcosa sia stato rubato o no non vedi chi sfodera l'arma per primo ma questo fa cessare immediatamente la conversazione ok quindi tanto vale che inseguiamo anche prima allora crum io direi di metterlo qua al momento che Eivind forse è meglio farlo partire per prima e need need sarebbe meglio sostituirla con una letta questo non ha ancora nessun oggetto ma non mi sembra che ne aveva uno da due no proviamo così vediamo tu spendi praticamente la fama per potenziare la fama serve per comprare il cibo siamo in una situazione una partenza così accerchiate tutti uomini e allora questi sono i picchiatori questi sono dps sostanzialmente questi con lo scudo bicolore questi sono i muri hanno i muri di scudi questa è l'arciere gli arcieri di solito partono per ultimi e questo è quello si è quello che fa attraversa comunque 7 9 10 11 11 12 direi che bisogna far fuori prima i diffamatori il problema è che la mappa è disposta a male mettiamo iver sono molto distanti anche da raggiungere questo era un diffamatore anche lui questo però quelli fanno peggio questi dobbiamo mettere questo qua una let qua questo qua e non riusciamo neanche vabbè poi lo portiamo qua magari questo poi io non sono un campione di questo gioco intendiamoci allora vediamo quello dei fulmini arriva qua quindi se io mi metto qua allora i turni sono questi il prossimo è quello là ok questo mettiamolo no dicevamo aspetta un attimo non ci arriva comunque mi sembra che anche se lo metto qua non ci arriva forse proviamo a mettere lo stesso un attimo qua si ma che ce la fa ok bene questo è arrivato fino a qui bene questo gli togliamo un po' di di forza così lo rendiamo un po' inoffensivo e poi arriva questo anche questo qua riusciamo oppure gli togliamo direttamente un po' di armatura abbiamo fatto un bel male in tutti i sensi ok adesso portiamo avanti questo magari qua portiamo avanti lui e diamo la determinazione a questa quindi anticipiamo il turno e così facciamo colpire un'altra volta poi quello 3d armatura e praticamente lo uccidiamo immediatamente oppure questo a 2 questo a 7 qua lo uccidiamo uccidiamo anche lui dobbiamo portarla qua ma si espone niente attacchiamo questo ammazziamo ciao buonanotte il discorso è che bisogna tenerle in vita tutti ma tendenzialmente si tengono in vita gli nemici perché il gioco è strano dal punto di vista dei turni di solito i giochi sono basati sull'iniziativa e quindi ogni unità ha una sua iniziativa e c'è un ordine ben preciso invece qua è sempre uno loro uno io uno loro uno io eccetera eccetera il discorso è che quando poi rimangono pochi di loro e magari sono molto forti uno io uno loro uno io uno loro ci massacrano sostanzialmente è molto più importante abbassargli a tutti la forza tendenzialmente in modo che colpiscono solo l'armatura e ci fanno pochi danni che invece ammazzarli allora vediamo un attimo adesso tocca a lui poi tocca quello là in fondo poi tocca a Iver poi tocca quello lì quindi ci viene addosso non dovrebbe arrivare ad Aleth quindi non dovrebbe arrivare ad Aleth allora andiamo andiamo a fare il nostro diciamo un muro di pietra intanto che ci teniamo addosso questi ok parte lui ecco io direi mettiamoci qua e aspettiamo un attimo ecco si arriva qua un bel 6 di danni ok fa veramente male quelli allora ripariamogli l'armatura quindi siamo 9 4 di armatura dovrebbe bastare così ok questo ripara si chiama riparatore anche perché ripara l'armatura però se c'è venuto adesso questo ok 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 proviamo un attimo di armatura anche il calcolo dei danni ok si stanno avvenuto le palle qui ci hanno cerchiato questo è ancora tutto anche questo sono pieni lì diamo che cavolo non va bene per niente ci uccidono ci uccidono allora poi il turno è Alet poi Iver lì siamo una forza a questo no deviato eh però se arriva questo ci fotta non l'avevo considerata quella cosa lì cavolo dunque devono spostare a letta la svelta facciamo gli alcoli fulmine questo comunque così togliamo un po' di vite no ho proprio sbagliato questo è No, 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 no. Siete venuti nel momento in cui sbaglio tutto 11, 11 Questa c'è ancora un sacco Adesso non ha più armatura Quindi questo lo ammazza con un colpo Questo lo ammazza con un colpo Basta, sono fottuti E tocca C'è la musica che sta sparando a canna Ma non si può farci niente E niente Mi sa che questa è la prima battaglia Cioè la prima cosa che perdo A parte una battaglia C'è una una stupidata Non è una stupidata Quattro Tre Quattro Allora abbassiamo questo Ho paura a muoverla Quattro Ancora tre di volontà Ok Usiamo un volo di pietra qua E non è Partita male questa cosa E andiamo via questo Eccolo Attento Passiamo via l'armatura Il problema dell'armatura è che bisogna abbassarla Perché se no noi fai Dunque Portiamo la via da qua Abbassiamola lui Abbassiamola lui Abbassiamola lui Togliamo di mezzo questo Ma Due due cinque C'è quello là ancora con cinque Arma non ho più armatura Eccolo lì È un bastardo Andiamo a togliere un po' di forza Perché se no Sto leggermente sudando Questi sono deboli E anche purtroppo qua non riusciamo a arrivarci Non con un turno solo Stiamo fuori questa Però aumentiamo i turni di tutti Tre di armatura Un attimo Questo è a S0 Quindi fa due diretti Il prossimo Ok Resto Resto via 6 Ma come ha fatto a fare 6? Ha usato un sacco di Porco cane Allora 3 3 Allontaniamoci Andiamo qua E ammazziamo questa strega Non riusciamo Non riusciamo Voi via Eh c'era ancora Vivo questo C'era ancora questo Picchiatore del cavolo Devia Ma se c'era due Ma che cazzo C'era due di forza Ci ha fatto 6 di danni Non è da proprio male Non è peggiore Ho paura Ho paura che Se non attacco questo Mi attacca quello Quindi la stessa cosa Di volontà Non vorrebbe piovercela 60% Impressionante La sfiga Eccolo qua Cioè è impressionante Sono riusciti a fare un macello Vaffanculo Ma porco Ma è andata così male I ladri si disperdono Abbastanza rapidamente Appena ti lanci l'attacco Ma quando torni a carovana Scopri il perché Altre proviste sono scomparse Mentre il fuori a combattere Ah pure Oh se volevamo darci Un senso di tragedia Ce la sta andando Meno 12 provviste Ma porca miseria Due due tre Eh però se questo da tre Anzi Quanto abbiamo di fama In teoria potremmo Vabbè Allora facciamo Sicuramente Riposiamo Oddio Persone di tutti i tipi Della caravana Si confrontano con te Uno dice Senti Non ci sentiamo sicuro qui Non so nulla di riparatori O cose del genere Ma vogliamo andarcene Speriamo che tu venga con noi Crisi Questo qua Lo intitolerò Crisi Questo Questo video Sembra che qualche dozzina di persone Contadini e combattenti La pensino al stesso modo Mi incoraggia a restare Dico molto chiaramente Che non sono interessati Di discutere la questione Vabbè Andate a morire da soli Che ti devo dire Scutando la testa Allontanandosi Il resto della caravana Non è pronto Quindi non puoi fare niente Per fermarli Speri che ce la facciano Che ce la facciano E ti auguro Di non aver fatto un errore Però Allora innanzitutto Prendiamo del cibo Prendiamo del cibo E proviamo a vedere Ok 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 Ottimo Vabbè Abbiamo sette giorni Andiamocene Ancora questo Rook aspetta Per favore Ti implora Ehi Wind Ha detto che sarebbe stata qui Abbiamo bisogno di lei Ma E' terrorizzato La idea di andarsene L'ho già detto Non verrà Ehi Wind Scuta Ciao calci Calci red Ehi Wind Scuta oltre il lago Con uno sguardo lontano Non dice nulla Abbiamo dei problemi Dice Iver Qui è tutto allagato Potremmo provare a camminare Sulle parti fangose Ma ci rallenterà Potremmo cercare di attraversare il lago Con la carovana Ma potrebbe ribaltarsi O incagliarsi Oppure potremmo semplicemente girare tutto Ma non ho idea di quanto tempo ci vorrà Che ne pensi? Beh Ce lo farà finire il gioco Proverare il fiume Sigilicare i passi nel lago Paghi alcuni paesanni Per aiutare Agire inondazione Dobbiamo guardare il fiume Com'è? Ah no Guardare Non guardare Guardare il fiume Non voglio altri guai Eh Agire inondazione Vuol dire impiegarci più giorni I paesani che ci rubano la roba Non le voglio Agire inondazione Lasci Sigrom E cerchi una via intorno alla strada lagata Che ha fatto sparire completamente la strada La zona lagata Prosegui fino alla zona boscosa Che ti rallenta ancora di più Speri di non aver fatto un grave errore Eh Quando è che non fai un grave errore qua? Lasci Sigrom di fretta Cerca di distanziare i distruttori Che devono essere vicini Mentre continui verso sud Incontri fogliame fitto Poi una foresta Prima di trovare una terra abbastanza asciutta Da seguire Per fare il giro Alla fine agiri il fango Mai perso un sacco di tempo E speri di non dovertene pentire più tardi Meno 28 provviste Due giorni Da set Ma che? Siamo ai guai Siamo in grossi guai Ah dici che sono tradotte male Un gruppo di uomini Con le spalle larghe e mantelli Spessi si avvicina alla carovana Potrebbero essere fuori leggi Senti nelle vicinanze E le idee rapidamente si infonde Fra i membri del clan Comunque siamo spazzati Non so Uno dei strani si avvicina Dicendo Siamo a corto di cibo Eh beh Qualsiasi aiuto sarebbe benvenuto I suoi duri occhi Non rivelano nulla Delle sue motivazioni Ma com'è che è sparito tutto Un tratto tutto Pensi quale sia l'approccio migliore Ah tu l'hai già giocato Quindi Non offri cibo Ma informi sui distruttori Chiudi cosa sono venuti a fare qui Combatte insieme a noi E guadagnati il cibo Questo da un diseguro Insieme a noi Non offro cibo Non possiamo condividere il cibo Dici ma posso dirvi questo Giratevi e correte Ed i distruttori ci stanno inseguendo rapidamente I uomini si scambiano Occhiate e sorprese Prima che il capo dica Apprezziamo l'avvertimento Ma questo rende maggiore Il nostro bisogno di cibo Allora Combatte insieme a noi E guadagnati il cibo I uomini si guardano Sorpresi per la tua offerta In breve si uniscono a carovane E cominciano a bere E condividere storia Purtroppo Meno di un giorno dopo Scopri che sono scomparsi Quest'esime è una considerazione Per porzionare Tu ho provviste Ma vai a fare E adesso Mappa Oh è andato tutto storto qua Tutto tutto storto Mi sono messo a parlare di flash E di altre cose E mi sono distratto No No